Ciao a tutti, in questo video voglio parlarti di imprinting emotivo. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e se ti abboni potrai partecipare ad apposite live mirate dove do delle risposte precise alle tue domande. E adesso veniamo al tema, che è quello dell'imprinting emotivo. Che cos'è l'imprinting emotivo? Imprinting significa impronta appunto ed è quello che noi tendiamo a vivere, diciamo così, a livello energetico nell'oggi frutto degli ieri, di quelli che sono stati i turbamenti degli ieri. Quindi quello che accade ieri, diciamo, è un po' come qualcosa di energetico che trova nell'oggi una sua realizzazione e deve trovare una sua realizzazione in elementi meccanicistici. Quindi l'imprinting è un fatto energetico. Oggi noi lo viviamo con elementi meccanicistici che vanno a, diciamo, in qualche modo a soddisfare questo livello energetico. Cioè se l'imprinting, l'evento del passato, diciamo così, nell'ambito della famiglia d'origine ha generato, diciamo, un'emozione con un certo grado di tensione, io oggi vado a cercarmi delle situazioni che mi generino lo stesso tipo di tensione. e le circostanze possono sembrare certamente influenzare la nostra esistenza. Uno dice, beh, è un caso che ho trovato questa persona. In realtà non si tratta mai di un caso. Perché? Perché sei andato a trovarti, ti sei innamorato proprio di quella persona? Perché nella vita noi interagiamo online, offline, in tante situazioni. E spesso andiamo a trovarci proprio situazioni che rispecchiano in qualche modo da un punto di vista energetico. Cioè fanno rivivere il nostro imprinting. Ecco quindi che è importante renderci conto che nulla accade per caso. Tutte le cose che accadono è perché hanno una base legata all'imprinting. L'imprinting è comunque un elemento fondamentale nella nostra vita. È un elemento che in qualche modo va a determinare le cose che andremo a vivere, che andremo a sperimentare in un tempo presente. Cioè l'imprinting è un elemento, un evento avvenuto nel passato che, diciamo, genera un qualcosa nel futuro. Genera un qualcosa nel futuro perché ha lasciato un'impronta, ha lasciato uno stampino. E quindi ci sono due bilance fondamentalmente, due piatti della bilancia. C'è l'imprinting originario e possiamo definirlo l'imprinting attuale. L'imprinting originario o imprinting base e l'imprinting attuale o imprinting relativo. Se queste due sono bilanciate, cioè se io riesco a spendere l'energia in qualche modo, nel modo giusto, allora le cose vanno bene. Io percepisco uno stato di felicità, uno stato di equilibrio, perché, diciamo, le mie esigenze energetiche vengono soddisfatte. Ovviamente non è così banale comprimere queste energie, perché ci sono delle forze che ostacolano l'imprinting. L'imprinting è generato dalla sfera emotiva. E quindi la sfera emotiva ha bisogno di trovare sfogo da qualche parte. Ma il mediatore, diciamo, l'oppositore è un po' la parte logica. Se questi imprinting viene vissuto in modo più o meno, diciamo, come dire, entro una solle di tolleranza del 30%, cioè in più o in meno, percepisco sempre uno stato di difficoltà, ma questo stato di difficoltà è quello che mi permette di andare avanti. Quando viene espresso energeticamente completamente, allora provo uno stato di felicità, che però è uno stato momentaneo, transitorio, perché ovviamente l'equilibrio è sempre dinamico tra passato e futuro. Il problema sorge quando questo imprinting o non viene speso, tra virgolette, e se l'imprinting non viene speso, cioè la mia energia non viene utilizzata, succede che, praticamente, che succede? Succede che io sono sotto dose energetiche, quindi l'equilibrio avverrà comunque, ma avverrà attraverso delle sofferenze, avverrà attraverso delle situazioni che io non riesco a governare, completamente al di fuori, diciamo, perderò la cognizione della causa e dell'effetto. Se invece può succedere anche il contrario, può succedere che nell'oggi vivo molte più emozioni di quelle che vivo nel passato, allora se questo accade, e beh, anche qua entrerò in uno stato di sofferenza, perché, come dire, la mia parte logica tenderà veramente a essere completamente compressa, tenderà a essere in baglia delle emozioni, e quindi anche qua dovrò riequilibrare, dando forza invece alla sfera logico-razionale, insomma, perché è molto importante questo, quindi devo ritrovare istituzione, devo ritrovare energia, diciamo così, istituzionale, che riequilibra un po' il tutto. Ecco, quindi che quando entro in queste dinamiche, è sempre bene renderci conto che la nostra vita è importante riuscire a viverla nel modo giusto. Se sentiamo un equilibrio interiore, perché abbiamo, come dire, la nostra impronta, il nostro fabbisogno energetico viene soddisfatto nell'oggi, quindi è importante darsi emozioni, perché darsi emozioni vuol dire andare a soddisfare quell'esigenza di base che è presente nel nostro imprinting, che è presente nel nostro stampino con cui siamo nati, diciamo così. No, siamo nati no, però abbiamo sviluppato nella prima infanzia. Quindi diamoci emozioni, oppure se vediamo che le emozioni sono eccessivamente prevaricanti nell'oggi, diamo istituzione, cerchiamo di dare un metodo, un ordine alla nostra vita. L'importante è vivere in equilibrio, e noi percepiamo di essere in equilibrio quando stiamo nel benessere. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai partecipare ad apposite live mirate, dove darò delle risposte precise alle tue domande. Ciao a tutti.